Se io costruisco una motocicletta o una borsa di pelle o un vestito qui nel nostro paese rispettando le regole di non preferenza, con regole che sono dettate per ogni singolo codice di classificazione, quel vestito, quella borsa o quella motocicletta è made in Italy e lo sarà verso tutti i paesi del mondo. È irrilevante quale sarà il paese di destinazione. L'origine preferenziale invece non può prescindere dalla destinazione finale perché non si affida a regole orizzontali applicabili in ogni caso, ma si affida a regole particolari che sono attribuibili soltanto dal singolo accordo bilaterale. Talvolta passa per scontato che dall'esame di un prodotto mi rendo conto che è preferenziale verso il Messico, quindi do per scontato che sia preferenziale verso tutti i paesi che abbiano con l'Unione Europea un rapporto preferenziale. Così non è. In passato, in un passato neanche troppo lontano, bastava la consapevolezza che un fornitore fosse di Como, di Lecco, di Padova, per dire vabbè, ma alla fine è di Padova. Quello che ho comprato da lui è certamente italiano e quindi è certamente preferenziale. Quindi quando io mi trovo ad esportare un prodotto che ha anche le componenti del mio fornitore padovano, lo dichiaro tranquillamente di preferenziale comunitario. Questo è un approccio molto pericoloso, che si è rivelato pericoloso anche per una maggiore attenzione che l'autorità nazionale di controllo ha sempre più posto verso questi rapporti. L'export è fondamentale per tutte le aziende del nostro paese. Perché questo export sia non soltanto semplice, ma sia efficace e c'è bisogno di avvalersi della preferenza, perché altrimenti i nostri prodotti possono non essere competitivi nei mercati nei quali si può spendere questo tazio zero. Però, come vi dicevo, non bisogna essere troppo creativi o non bisogna essere troppo, come dire, pensare che dare per scontati certi presupposti.